Ciao, io sono Davide di Rosolini, principalmente faccio musica ansiosa, c'è riverso tutte le mie ansie in quello che sono Principalmente sono racconti, storie tristi, dannate, anche erotiche, sessuali, sì, l'erotismo al principio Beh, tutto qui Ma no, è giusto che uno lo guarda il concerto, mica lo devo anticipare Ma che devo dire? E' molto organico Ma tu da dove vieni? Da lontano, dal sud, da Rosolini, provincia di Siracusa Ah, conterraneo sei? Conterraneo? Sì, poi mi spieghi tutta la storia Poi mi spieghi tutta la storia, va bene E stasera il concerto? Stasera il concerto spero di riuscire a farcelo, non credo mai nelle mie capacità fisiche, ho un corpo debolissimo Sembra ansioso, sembra che sta male Sembra che soffra Sì, sono per il pessimismo cosmo, non che sono, ho un pessimismo cosmo, sono per la gioia, per la vita E le tue radici musicali? Mi ispiro a mio nonno Che non suona Che non suona però, beh, racconta storie di guerra Io semplicemente, tipo, cerco di prendere il meglio che c'è in ognuno E raccontarlo Grazie Bocalubo